L'ex consigliere comunale Giorgio Cisini conferma il proprio impegno a favore del Partito Democratico e della festa di fine estate che quest'anno per motivi economici e organizzativi rischiava di saltare. Sono commosso scrive in una nota per l'attestato di stima espresso dagli amici prima ancora che colleghi del PD e quindi confermo l'impegno per sostenere la prossima sfida del partito sul territorio. Cisini ribadisce però che è arrivato il momento di cambiare le cose, abbandonare vecchi modelli per poter aiutare al meglio i cittadini. Grazie alla mia attuale esperienza di presidente Acer, ha proseguito, che mi ha consentito in oltre un anno di ascoltare e toccare con mano le difficoltà oggettive che vive una larga fascia della popolazione, ho capito che i vecchi modelli non reggono più il rischio di trovarsi assolutamente fuori sintonia con il sentire comune di chi questa crisi la sta vivendo pesantemente sulla propria pelle. Serve una nuova visione, una nuova energia per fare sì che la festa sia un momento di presa di coscienza del ruolo del PD. Essere concretamente al fianco di chi cerca di reagire al disagio di un momento sociale ed economico da cui dobbiamo assolutamente uscire. Serve il contributo di idee da parte di tutti per realizzare un nuovo format con clou decisini, finalizzato ad aiutare concretamente chi ha bisogno e chi si traduca in azioni a favore delle famiglie in difficoltà.